Al giorno d'oggi tutti quanti modifichiamo le nostre immagini. C'è chi come me utilizza Photoshop, Luminar Neo, strumenti avanzati e chi semplicemente usa FaceApp o i filtri di Instagram, ma tutti quanti modifichiamo qualcosa sulle nostre foto. È molto raro che le nostre foto vengano postate così come sono state fatte. Oggi voglio raccontarvi perché, a mio parere, stiamo tutti utilizzando la post-produzione nel modo più sbagliato possibile. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia professionalmente ormai da una decina d'anni, per cui so quello che dico quando vi parlo di post-produzione e dell'utilizzo che la maggior parte delle persone ne fanno. Ora facciamo un distingo. C'è chi lo fa professionalmente come me e quindi risponde a delle specifiche esigenze di un cliente, c'è chi lo fa per se stesso per ottenere una gratificazione personale, però salvo i puristi che ci sono, molti so che mi seguono e abbiamo molte cose in comune, però io so che moltissime persone invece stanno lì a pastrugnare le immagini prima di postarle. Ora, se volete rimanere sempre aggiornati su approfondimenti di questo tipo, io la prima cosa che vi consiglio di fare è di scrivervi. Così non correte il rischio di postare delle foto pastrugnate in malo modo, col risultato poi che magari qualcuno dei puristi che mi seguono abitualmente ve le commenta anche male. È un rischio che io fossi in voi non correrei. Detto questo però, voglio spiegarvi come mai, secondo me, molti di noi stanno usando la postproduzione nella maniera più sbagliata possibile e come questo continuo utilizzare la postproduzione nella maniera sbagliata influisce sulla nostra mente condizionando noi e le persone che ci stanno intorno a fare altrettanto e quindi a perseverare nell'errore. Partiamo da un presupposto. Io non sono contrario alla postproduzione, sia ben inteso, io faccio la postproduzione. Dobbiamo fare un piccolo distinguo però. Un conto è lo sviluppo digitale. Sapete che originariamente c'era la pellicola, la pellicola si sviluppava, nel senso che c'erano dei procedimenti chimici per cui la pellicola, i negativi, venivano sviluppati attraverso un procedimento con delle vasche di acido e dei fissanti e tutta una serie di componenti chimiche che a seconda del tempo in cui venivano lasciate agire o a seconda della gradazione o a seconda di tante altre cose che io adesso non vi so neanche dire perché io non sviluppavo in camera oscura. Mio padre sì, io no. Molti di voi so che lo fanno ancora, per cui se qualcuno ha esperienze da portarci, i commenti sono qui sotto. Fateci sapere voi cosa facevate e quali sono le differenze tra una sostanza e l'altra per avere un contrasto maggiore, una saturazione maggiore. Insomma, lo sviluppo si è sempre fatto. Una volta lo sviluppo era analogico, tramite questi procedimenti io potevo decidere quanto colore volevo, potevo decidere quanto contrasto volevo, ovviamente partendo da un'esposizione giusta, se avevo cannato l'esposizione non si potevano fare miracoli, però partendo da un'esposizione giusta io potevo fare tutta una serie di cose per avere una stampa finale di un certo tipo. Oggi funziona esattamente nello stesso modo. Io scatto la mia foto, personalmente lo reputo ingenuo di dire io scatto la mia foto quella è la pubblico così. Si può fare, si può fare perché io posso scattare in JPEG e quindi dico alla mia macchina che voglio che mi salvi una foto con basso contrasto, alta saturazione, alta chiarezza, posso dire, posso mettere dei parametri in macchina e quindi ottengo una foto già processata e già pronta. Lo posso fare. Però se sto scattando con una macchina fotografica bellina è un peccato perché non sto tirando fuori il 100% dalla mia macchina. È come se io prendessi la pellicola e la sviluppassi senza badare alle componenti, senza badare al tipo di sviluppo che sto facendo. Invece nel momento in cui io la sviluppo, e vi consiglio di andarvi a vedere un video che ho pubblicato di recente in cui faccio vedere lo sviluppo con Luminar Neo. Vi lascio i link qui sotto, c'è una promozione interessante su Luminar Neo per chi fosse interessato. Nel momento in cui noi andiamo a sviluppare la nostra fotografia possiamo tirare fuori delle informazioni che ci sono sul file, sul file RAW, sul file grezzo. Esistono queste informazioni, la macchina le ha catturate, però il file RAW che noi vediamo non è piena espressione di queste informazioni. È un involucro. Nel momento in cui noi lo sviluppiamo diciamo noi al file quali caratteristiche enfatizzare e quali invece andare a mitigare. Questo è molto importante per ottenere la foto migliore possibile e anche per sviluppare un nostro stile perché andare a fare color grading su un file RAW ci permette di tirare fuori caratteristiche del file che su un JPEG non riusciremo a tirare fuori o comunque vedremo degli artefatti, bending e altre cose abbastanza bruttine che insomma è sempre meglio cercare di evitare. Questa è la prima parte della postproduzione. A questa parte io sono assolutamente favorevole. Mi sembra naif non farla questa parte. Poi per scelta anche io scatto in JPEG. Ci sono delle volte in cui io scatto in JPEG perché so che non voglio fare la posta e quindi ci sta. Se è una foto a cui tengo molto la scatto in RAW e poi lo sviluppo digitale lo faccio. Altra cosa è la postproduzione invasiva, il fotoritocco, la manipolazione. Queste sono tutte cose che attenzione esistono da vent'anni anche più, ormai si sono sempre fatte. Sono cose che possono avere senso. Vi faccio degli esempi quando io faccio i booklet per le band, ma è normalissimo. Io faccio delle foto per le band e poi scontorno i musicisti e siccome io faccio lavori prevalentemente per i metallari purtroppo, quindi mi chiedono sempre, purtroppo perché mi piacerebbe fare anche altri generi e a me il metal piace, quando mi chiedono questo tipo di immagini io li scontorno e poi dopo mi dicono di mettergli dietro un castello con la nebbia piuttosto che un dragone che sputa a fiamme, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi è evidente che lì ci va del fotoritocco per fare contento il cliente e per ottenere il risultato che volevano. Costa meno così che non organizzare e andare davanti a un castello vero o organizzare e mettere dietro un dragone vero. A me piacerebbe moltissimo fare le foto col dragone vero dietro, però ancora non mi è mai capitato. Quindi esistono i casi in cui la post si fa. Un conto è, caso come questo, appunto la promozione di una band. Lì è evidente che stiamo parlando di grafica, nessuno guardando la foto del booklet di una band penserà, cavolo che bel dragone dove l'avete preso, cioè non c'è possibilità di errore, lo sai che è finto. Al giorno d'oggi però noi stiamo facendo un uso diverso della postproduzione e mi riaggancio anche al discorso dell'intelligenza artificiale. Io vedo molto, quindi il tema del video arriviamo a snocciolarlo solo adesso dopo sette minuti abbondanti. Io vedo in giro un utilizzo molto sbagliato e mortificante degli strumenti che abbiamo a disposizione. Vi faccio un paio di esempi. Le cose che mi sento dire più spesso in assoluto quando vado a fare una foto, che sia per amici, che sia per lavoro, che io stia passando di lì per caso, non importa. Le cose che mi sento dire sono sempre le stesse. Se sto fotografando una persona, se è un maschio, mi sento dire, oh mi raccomando rimettimi i capelli e levami la pancia. Se è una donna, mi sento dire, oh mi raccomando fammi più magra, levami le rughe. Devo sembrare vent'anni più giovane. Se sto fotografando un luogo, mi sento dire, ah senti, le crepe nel muro puoi farle sparire. Doviamo fare i lavori, però credo che li faremo fra sei o sette anni. Nel frattempo fai sparire le crepe, fra sei o sette anni le facciamo sparire per davvero e quindi il locale diventerà come in foto. Il pavimento sì è sporco, ci sono delle schifezze in giro, c'è il moccio nell'angolo, però tanto lo fai sparire poi dopo tu con Photoshop, no? Tanto viene meglio forse anche. Ah, e un'altra cosa, ci sono le persone che passano, riesci a farle sparire tutte quante con l'intelligenza artificiale. Potrei andare avanti all'infinito, però che cosa hanno in comune tutte queste situazioni? Il fatto che stai sostanzialmente imbrogliando. Stai imbrogliando perché nel momento in cui mi chiedi, ma non a me, anche nel momento in cui ce lo facciamo da soli, vale anche per me, sapete, io, lo vedete che sono stempiato, ve ne sarete accorti se mi seguite da un po' che sono lievemente stempiato. Voi dovete sapere che c'è stato un periodo nella mia vita in cui anch'io mi mettevo lì con fluidifica di Photoshop e mi tiravo lievemente giù l'attaccatura dei capelli. Adesso non lo faccio più, sapete che sbatti che sarebbe farlo in tutti i video anche quando mi muovo, cioè basta, fa niente, va bene così. Tanto nessuno di voi mi ha mai insultato dicendomi stempiato del cavolo, roba del genere, quindi fa niente, vuol dire che vi va bene così, mi volete bene lo stesso, no? Commentatemelo, ditemi se mi volete bene lo stesso, oppure se vi sto sulle balle nonostante la mia stempiatura. Avete capito cosa voglio dire comunque? Molti di noi utilizzano la postproduzione per sopperire a una situazione che non gli va bene, per sopperire al fatto di, adesso mi rendo conto la stempiatura io non è che ci possa fare granché, si potrei fare il trappianto, ma va bene così, non è grave la situazione, però quando io mi sento dire levami la pancia, quando io mi sento dire toglimi le rughe, quando io mi sento dire puliscimi tu i muri, quando io mi sento dire mi togli le cose che ho lasciato in disordine, a me viene tutte le volte da pensare, ma non è che è un alibi, ma non è che il fatto di dire tanto poi la foto viene bene lo stesso, quindi cristallizziamo quel momento così com'è, lo facciamo sembrare migliore di com'era e poi per i prossimi dieci anni quella è la mia immagine, quello è il mio riferimento, quello è il modo in cui io comunicherò me stesso, la mia persona, la mia realtà, la mia azienda a chiunque venga in contatto con me e non mi conosca. E questa sostanzialmente è una mezza truffa secondo me, attenzione una mezza truffa non nel senso legale del termine, non è che stiamo imbrogliando il cliente finale, però gli stiamo facendo vedere una cosa che non necessariamente corrisponde a realtà. Ora ovviamente se io vi faccio vedere un iPhone 16 Pro e gli metto 5 bottoni in più, quella è una truffa perché il prodotto non è così e io non posso manomettere un prodotto in questo modo. Nel caso di aver tolto le rughe chiaramente non è una truffa vera e propria, però stiamo comunque manipolando la realtà. Ora io non sono contrario a manipolare la realtà di per sé, lo faccio tutti i giorni, nel momento in cui io faccio i miei contenuti ma voi pensate che le luci siano così durante la giornata quando ci sono altre persone che lavorano in un ufficio, ma col cavolo, queste luci le metto così io e stanno così per 20 minuti a settimana il tempo che io ci metto a registrare i video, quindi anch'io manipolo la realtà a mio modo. Tutti quanti lo facciamo. Da quando esiste il linguaggio e l'immagine è una forma di linguaggio, tutti quanti lo usiamo anche per dare la nostra versione della realtà e quindi manipolare quella che può essere la verità oggettiva, che poi non esiste. Da recenti letture che ho fatto ho maturato la convinzione che la realtà oggettiva non esiste a meno che non si prenda in considerazione la somma di tutte le realtà possibili per tutte le persone coinvolte, quindi capite che in realtà è un concetto un po' lasco. Detto questo però, quello su cui mi voglio focalizzare è, ma invece di chiedere a me di toglierti la pancia, ma perché non sei andato a correre prima di fare le foto? Lo sapevi da due settimane che avevamo fissato. Ma invece di chiedere a me di toglierti le rughe, perché non hai fatto un paio di passaggi con una di quelle creme miracolose che fanno oggi in maniera tale da risultare al meglio durante lo shooting? Oppure perché non accetti semplicemente di avere le rughe? Perché ci sta anche quello, eh? Ci sono persone che rimangono bellissime nonostante le rughe. Io sono l'esempio classico. Per quanto riguarda gli interni, poi mi togli le crepe nei muri e mi fai sparire il mocio da terra. Ma perché non fai venire i muratori e non sistemi quel muro? Voglio dire, perché usate me, mi ergo a paradigma di tutti i fotografi, designer e quant'altro, perché usate me per far sembrare migliore una cosa che potreste migliorare davvero nella vostra vita? La differenza tra apparire migliore e essere migliore. Io non vorrei mai che in una mia foto qualcuno mi mettesse il corpo di Schwarzenegger sotto, perché io non sono come Schwarzenegger sotto, non ancora. E finché non lo sarò, finché non riesco a ottenere quel risultato con le mie forze e essere così, io non voglio apparire così, perché al di là del fatto che sarebbe ridicolo, ma chi mi conosce lo sa benissimo che non è così, lo vede che c'è una manipolazione, che c'è una modifica. Certo, chi non mi conosce ci può cascare, ma è una truffa che io sto facendo a me stesso, perché il fatto di dire, ok, ho preso quella situazione, l'ho resa perfetta nella foto. Adesso per dieci anni faccio vedere quella a tutti e tutti crederanno che io, la mia attività, i miei capelli, siamo veramente così come eravamo nella foto. Sto truffando me stesso e mi sto impedendo di agire per arrivare a quel risultato nella realtà. Mi sto accontentando di aver ottenuto quel risultato in una foto, in una ripresa video tutt'al più, e mi sto dimenticando che potrei ottenere quella cosa e essere veramente quella cosa nella realtà. E questo, secondo me, è uno degli utilizzi più mortificanti in assoluto che noi possiamo fare della post-produzione. Vi chiedo a questo punto, fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento. Voi fate utilizzo di post-produzione? So che ci sono dei puristi, come dicevamo all'inizio del video, ma so anche che molti di voi smanettano, molti usano Luminar, molti usano Lightroom. Io stesso uso queste cose, sia per lavoro che per divertimento. Mi diverto un sacco, però cerco sempre di mantenere il confine netto tra quella che è una fotografia e quella che è una grafica. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Vi invito anche a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché l'algoritmo è veramente aggressivo in questo periodo e quindi un like a questo video mi darebbe parimenti una grossa mano. Signori, io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.